Ciao a tutti, io sono Mr. Vadim e oggi io faccio un'astronave. Di tutti questi pezzi io faccio quest'astronave. Devi prendere questo, dopo questo e due questi. Dopo metti questo qua, questo qua e dopo lasci uno spazio qui e viene così. Dopo quanto hai fatto devi mettere così, dopo così. Viene così guarda, è venuto così. Dopo prendi questa di taglia e metti qui. E succede così. E dopo devi prendere questi due, anche questi due piccoli e dopo metti qui. Quando hai messo, quando hai messo, devi prendere questo e questo. devi mettere prima questo. Viene così. Dopo, quando hai preso, prendi questo e metti qui. Va così e dopo prendi questi due e metti qui. Va così. Dopo, quando hai fatto, prendi questi due, metti così, metti così e metti qui. Lasci qua uno spazio. Devi mettere, guarda, così, così e così. Va così. Bene, quasi finiti. Dopo, prendiamo questo qui e questo qui. e mettiamo qui. E qui un. Quando hai finito. Dopo, devi prendere questi due e mettere qui e qui. Dopo, devi mettere qui. Dopo, 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 devi prendere questa e mettere. Dopo, quando hai finito, devi fare così e dopo finire quello che cosa hai fatto. Quando hai finito questo, solo rimane una dettaglia che devi mettere qui e diventa così, come la foto. Ci vediamo in un altro video. Io voglio tanti like e tanti iscritti. Ciao ciao a tutti. Ciao a tutti.